Vi rassumo perché a seguito di una decina, scusate, di qualche decina di ore fa c'è stato questo prevenimento del Tribunale, della disianza di sequestro, abbiamo concluso questa giornata in tre momenti. Quindi il momento del breve termine, per il quale da giovedì inizieremo le lezioni con orario pomeridiano, il breve termine per noi significa l'ordine di qualche settimana, un paio, forse tre. Poi un medio termine dove grazie anche alla disponibilità della prefettura, dell'OSR stiamo vagliando tutti i siti idonei per poter ospitare le scuole, quindi significa università in primis nelle ore del mattino, il sito, la sede di via Mazzini ed altri edifici che questa mattinata stiamo comunque ponendo al vaglio dell'istituzione scolastica, quindi nel medio termine sarà dalle due settimane, da qui a due settimane fino, pensiamo, a gennaio massimo febbraio, dove manterremo la scuola, le lezioni nell'orario della mattina, quindi elimineremo il pomeriggio. Poi inizierà la fase del lungo termine che inizierà con la realizzazione del nuovo edificio scolastico, che noi riteniamo potrà essere completato per gennaio massimo febbraio. Mercoledì mattina massimo giovedì vi comunicheremo il sito o i siti che abbiamo ritenuto idonei per realizzare questa struttura, che avrà sì un carattere della provvisorietà, ma sarà una scuola a tutti gli effetti, quindi con adeguata le normative sismiche, adeguata le normative termiche, quindi con un comfort per gli alunni idoneo, se non migliore a quello attuale. Quindi abbiamo individuato queste tre fasi, 0-2 settimane con orario pomeridiano, 2 settimane, 3 mesi, medio termine, con lezioni solamente nelle ore della mattina, da 3-4 mesi in poi, lungo termine, la nuova scuola che sorgerà in un sito che stiamo individuando all'interno della città di Terra. Questa è la conclusione di questa riunione, ci ragioneremo giovedì mattina per comunicarevi quali saranno i siti del medio termine, cioè dove andranno gli alunni a scuola nell'orario della mattina e d'altro per il momento ci sentiamo di non aggiungere, salvo domande naturalmente. Nel breve termine? Solo pomeridiano. Ma da giovedì? Millie, Comie, Pascal Porte. No. Millie e Comie, Millie e Comie. Da giovedì le superiori, quindi a orarsi dell'elementare e dell'elementare. Dei Acobis e San Bernardino.